Wanga Manana, siamo al 13 di dicembre, andiamo a scoprire qual è la birra di oggi andiamo a vedere sul nostro calendario, eccole qua, il 12 era qui e sotto c'è il 13 ci siamo sprecati molto devo dire, buttiamolo via qua da qualche parte praticamente ci sono le birre sopra che ormai stanno cascando su quelle sotto 12 di dicembre, Crew Republic, Drunken Sailor, a novembre abbiamo aperto la Foundation Eleven perfetto, ok, come sempre io sono Alfeita, questo è il 13, ciao!